Lavoro fianco a fianco dei giovani per realizzare i loro progetti. I giovani baresi non possono più aspettare il lavoro che non c'è in una città che li ha abbandonati. Il lavoro a Bari non arriverà con l'assistenza ma sarà generato dallo sviluppo economico. Al momento non ci sono altre strade da percorrere. Questo in sintesi il messaggio di Mimmo Di Paola, candidato sindaco per il centrodestra barese, nel corso della presentazione della lista Io per Bari capeggiata da Federica Stea. Intanto prosegue il cammino per le strade e per i quartieri della città del candidato di impegno civile. Una vera e propria maratona con un Di Paola in assetto ginnico cominciata dal gennaio scorso quando il tavolo della coalizione era ancora frammentato sulle primarie. L'obiettivo di Di Paola è quello di ascoltare dalla viva voce dei cittadini istanze, richieste, nuovi e vecchi problemi alla ricerca di soluzioni che dovranno trovare una sintesi nel programma elettorale. Nel fine settimana Di Paola ha fatto tappa a Bari Vecchia. L'ex amministratore di aeroporti di Puglia è andato in giro per negozi, bar, panifici, ristoranti. Bari Vecchia, bella come sempre, ha detto, ma sempre con poca gente e con i problemi di sempre. I residenti un po' contrariati per usare un eufemismo, diciamo così. Bari Vecchia, bella come sempre, però, diciamo, abbastanza vuota, cioè con poca gente rispetto a quella che potrebbe frequentarla e questo riporta alla luce il vecchio problema dei parcheggi e della zona a traffico controllato con qualche problema di fogna, problemi di acqua e problemi soprattutto del commercio. Sono i temi ai quali porremo mano quando saremo la guida dell'amministrazione comunale. La coalizione, dopo l'accordo con il nuovo centrodestra di Massimo Cassano, appare più forte e coesa. La nomina sottosegretario del Ministero del Lavoro, ricevuta dal coordinatore regionale del partito di Angelino Alfano, attribuisce maggiore valenza all'intesa faticosamente raggiunta nei giorni scorsi. Oggi previsto l'incontro del coordinamento delle liste che appoggiano Mimmo Di Paola per organizzare la campagna elettorale e definire gli ultimi aspetti della coalizione.